Ma si prende il burdel, forse dai venite 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 a mangiare i prodotti i prodotti con i prodotti, i prodotti con i prodotti, con i prodotti con il ragù, con il carino o con il psaerello Ma quando? Quando? Ah sabato, sabato 10, la facciamo, stiamo a prendere dopo un mese, qui siamo a mangiare poi il jumbo, il jumbo che fa la sua musica e poi... Ma dove? Qui, via Baldini, al mattarello, davanti al mattarello qui a Cesenasco, nei nostri golfi La gara? Ah, è vero, via la gara, al nuovo, se la scuola, dal nuovo, via la gara di voi attori di tagliatelle uscirà un bel tavolo, un nuovo vetti a tagliatelle, e per anche finesse e viso Si scoraggiano subito, dici già il peso? No, no, che anni, io ho messo due minuti Un minuto e mezzo Un minuto e mezzo, scusa Perché dopo la nove scogli, la nove colli, la nove... Esatto, quest'anno abbiamo fatto Quest'anno abbiamo portato in quantità Sì, 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 dopo noi prepariamo Abbiamo preparato le tagliatelle, il ragù e ai piselli quest'anno qui è anche la tagliatelle, la ricerche Più la piadina Piadina, pressione e salà Facciamo una bella festa tutti insieme Vino, vino a volontà A noi che facciamo dubbare le tagliatelle Tu puoi dire, dai, a noi tutti che raspitiamo Grazie 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 Grazie